E in situazioni di emergenza come queste ancora una volta torna alla ribalta la questione della mancanza di uomini e mezzi nei Vigili del Fuoco. Arriva a dirlo ancora una volta il coordinatore regionale dell'USB dei Vigili del Fuoco, Carmelo Barbagallo. Ancora una volta si dimostra che ad ogni piccola emergenza i comandi siciliani vanno in affanno per la carenza di organico. Ieri sera è toccato al comando di Catania ma ancora oggi sta continuando a esplodare interventi. Ieri è arrivato in supporto anche una partenza dal comando di Ragusa e una partenza dal comando di Messina con il supporto dell'autogru perché al comando di Catania è guasta da mesi. A mesi dimostra ancora una volta come è necessario potenziare questi comandi. Potenziare i distaccamenti SD5 qualora avessero più di 1100 interventi l'anno. Il dipartimento ha risposto alla nota inviata dal sindaco di Ecireale, ricordiamo la collaborazione che il comune di Ecireale nel nome dell'assessore di prima del sindaco Alì ha avuto con questa organizzazione sindacale, USB Vigile del Fuoco per far sì che il distaccamento fosse riclassificato SD5. Una risposta è arrivata che arriveranno 50 unità entro l'anno al comando di Catania e sarà presa in considerazione con la prossima legge di stabilità la riclassificazione sede di Ecireale. Noi ci auspichiamo, perché ieri anche Paternò ha avuto tantissime richieste di interventi, c'è stata una tromba d'aria, ci auspichiamo che tutti i sindaci a cui noi abbiamo inviato una missiva per la richiesta di riclassificazione sede si mettono al lavoro e comincino a sollecitare il dipartimento per far arrivare quelle unità che servono per riclassificare le sedi e per avere una risposta immediata al soccorso tecnico urgente, che è salvavita sia per i soccoritori che per la popolazione. Noi l'abbiamo ribadito più volte e non ci fermeremo di sollecitare agli organi competenti, come per il nucleo sommozzatori, come per il nucleo portuale, come tutte le mansioni che i Vigile del Fuoco hanno necessità di rimpinguare perché c'è una grossissima carenza di organi che potrebbe essere colmata con le gradutore degli donne con costi pubblici e la stabilizzazione dei precari.